Sto registrando. Sto registrando. Aspetta, aspetta. Sto registrando quindi. Si. Cloth Gautier. Ah. Ho detto un po' in mezzo perché... Almeno non chiedo. Ok. Seggio via Cloth Gautier. Una poma del 2005. La c'è la Cote Chevalier che ho preso prima. Poi adesso andiamo a prenderla a Les Vallons e scolliniamo dall'altra parte. Ecco. Perché la vecchia Cote Chevalier partiva esattamente dalla dietro. Mentre è lunghissima quella nuova. Dalla dietro. Ecco lì, precisamente lì sotto. Partiva la vecchia. Faccio il video. La vecchia Cote Chevalier. Alla via. Alla via. Alla via. Alla via. Alla via. ecco magari da là in punto possiamo direttamente andare alla Lisba a Lons da in punto a qua il Claude Gautier c'è l'acqua, c'è l'acqua, c'è l'acqua, c'è l'acqua c'è l'acqua io non mi ricordo dove ma c'era una sedia con gli steri numerati da monte verso valle c'è l'acqua, c'è l'acqua, c'è l'acqua, c'è l'acqua, c'è l'acqua che mi ha dato una bella botta alle gambe c'è l'acqua, c'è l'acqua, c'è l'acqua comunque le seggivie qua in Francia vanno veloci, la posta è tornata c'è l'acqua, c'è l'acqua, c'è l'acqua, c'è l'acqua e Tomber, funi e ferro, dice che le Roma sono scopole magari quella italiane, magari quella con la tipologia di seggio, non è tipo l'acqua ma la posta che c'è l'acqua, c'è l'acqua, c'è l'acqua, c'è l'acqua ma la posta che c'è l'acqua, c'è l'acqua, c'è l'acqua, c'è l'acqua ecco che siamo arrivati troppo pesanti sti bar sti bar vai vai al prossimo piatto